Carissimi amici, buonasera da Marco Del Cima. Per questa estate sfolgorante, per questa estate season 2017, non può mancare per voi, che vi piace come me girare la notte, la guida dei Bermuda. Questa è una guida molto interessante, dove appunto ci sono scritti tutti i locali della Versilia, dove si può entrare e dove non si può entrare con un certo tipo di abbigliamento. Qui ci sono tutte le recensioni, anche su come si mangia, ma soprattutto sul look da tenere, sull'abbigliamento da tenere, prima di entrare all'interno di un locale. Questa è una guida molto utile per questa stagione 2017. Una copia l'ho già inviata al sindaco, all'amico De Ghingaro, e anche a Miracolo naturalmente, una copia dove potete andare. E poi ci sono le recensioni anche dove si mangia, perché io e l'amico Maccioni, che siamo sempre in Bermuda, diciamo che i locali ne giriamo parecchi, da tutto il litorale. Quindi non può mancare nelle vostre tasche la guida dei Bermuda. Ok? Vi aspetto. Nelle migliori edicole, naturalmente. Ciao da Marco Del Cima.